Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube Oggi vi porto la review di due giocatori Il primo è Paul Pogba nella versione flashback Che tutti quanti ci aspettavamo che uscisse Ma che forse ci ha lasciato un pochino con l'amore in bocca In realtà poi la seconda più che una review sono due considerazioni Sulla carta Pottm di Mbappé Che è stata rilasciata ufficialmente ieri da Futsheriff E penso che nel momento in cui starete vedendo questo video Sarà probabilmente di lì a poco anche disponibile in game Partiamo proprio dalla Pioche Paul Pogba, giocatore che a centrocampo ha sempre negli anni dominato Salve poi il lento declino degli ultimi anni Soprattutto quando è andato allo United Ma che in questa versione flashback ci ricorda un po' i fasti del passato 1,91m di altezza, gli hanno cambiato il work rate che diventa alto normale Piede destro, 5 skill e 4 piede debole Statistiche che abbinate ad un body type importantissimo Perché 1,91m questo è praticamente un colosso piazzato in mezzo al campo Insomma ci lasciano presagire tanto di buono Però ci sono come al solito dei però Perché questa carta qua è una SBC Il suo costo è di circa 600.000 crediti E' vero che è francese ma è comunque un giocatore di serie A Si può linkare, non lo metto in dubbio Ma, ma Dovete pensare che già in base a quelle che sono le alternative Ci sono dei giocatori che a questo Pogba gli fanno concorrenza Penso ad esempio ad una versione speciale di De Bruyne Penso magari ad uno Yaya Touré Insomma ce ne sono svariati Vediamo poi le statistiche interne Perché parliamo di un giocatore con 78 di accelerazione e 83 di velocità scatto Che onestamente abbinato all'82 di agilità e 95 di forza Ci danno un lengthy potenziale Perché se andate a piazzare un'ancoretta Questo appunto cambia lo stile di corsa E dovrebbe anche essere sulla carta un lengthy di quelli buoni Visto che ha più velocità scatto rispetto all'accelerazione Però, visto che parliamo di un giocatore con delle doti fisiche importanti Questo Pogba qui fa una gran fatica a prendere velocità sui primi passi Quindi sul primo controllo, anche sul secondo Ciancica un po' Mentre quando riesce ad andare via e a lanciarsi Sul lungo, appunto proprio per sfruttare il suo stile di corsa Va via che è un amore Però, c'è un però Con i centrocampisti voi di solito avete bisogno di un qualcuno che è esplosivo nei primi metri Perché non è un esterno che ha bisogno di fare queste grandissime cavalcate E di prendere campo Certo, alle volte per ribaltare l'azione un po' tra le linee si crea spazio Ma non è che vi serve questa grandissima velocità sul lungo Vi serve che dia degli strappi E questo Pogba grossi strappi non ne dà Per quanto riguarda le statistiche di tiro È il solito Pogba Perché 96 di potenza tiro e 89 di tiro dalla distanza Si fanno sentire e come Specie se andiamo a considerare le statistiche Ovvero tiro da fuori e tiro d'esterno Questa è una carta che spaventa tanto con le conclusioni dalla distanza Quindi anche con l'L2 è uno di quei pochi giocatori che Continua ad avere degli ottimi tiri con l'esterno Per quanto riguarda poi i passaggi 90 di corto e 96 di lungo sono assolutamente dei valori lodevoli Soprattutto anche con i filtranti L1 triangolo di prima eccetera Questo si comporta molto molto bene Quello che però mi lascia un po' così perplesso Sono le statistiche di dribbling Perché quell'82 di agilità abbinato ad un 80 di equilibrio E in un 87 di reattività per un metro e 91 di giocatore Purtroppo lo vanno a penalizzare tanto Nella misura in cui fa fatica a girarsi Risulta il più delle volte molto pesante Palla al piede Nonostante abbia anche un 92 controllo palla E un 93 di dribbling Che sono parametri di tutto rispetto Per quanto riguarda le statistiche difensive Intercettazioni 80 con quel verde stentato Non sono un problema perché un metro e 91 Va un po' a sopperire magari ad una carenza Dal punto di vista delle intercettazioni Diciamo che arriva dove quella statistica non è in grado Con appunto la sua stazza Lettura difensiva 70 Fa sì che non è proprio il più automatico dei centrocampisti Però se comunque lo richiamate all'ordine andandola a selezionare Il suo lo fa serenamente Contrasto in piedi 86 Scivolato 81 Abbinato anche a un ottimo 95 di forza 89 di aggressività Fa sì che questo polpo sia bello potente Per quanto riguarda il recupero pallone 86 di resistenza Ce lo fa andurare per tutta la partita tranquillamente 90 di elevazione per i contrasti aerei Con 91 centimetri in più del metro Insomma fa sì che anche di testa È bello pericoloso La conclusione però su questo polpo È che nonostante appunto ripeto sia una SBC Il prezzo è abbastanza altino Ma magari con qualche fodder L'ha abbassata in questo periodo Non so se io mi sento di consigliarvelo Allora non è che mi sia dispiaciuto Ok Mezzo È stato godibile Però Considerato che C'ha già tanti rivali Nel senso di alternative Considerato che È vincolato alla serie A Su PS4 Lo sconsiglio caldamente E su PS5 Non è questo campione Io sincero Vi dico Sbloccatelo Se lo pagate massimo Sui 250 E se siete dei fan E pensate che questo Pogba Possa svoltarvi il centrocampo E che ve lo portate Avanti Il ruolo che io consiglio È rigorosamente di mezzala In un centrocampo a tre Perché a due apriti cielo Anche con uno più difensivo vicino Ma state molto attenti Perché non vorrei che andate a sprecare Tanti fodder E tanti crediti Su un giocatore Del quale poi Vi pentite Veniamo dunque A Mbappé Potm Che come potete vedere Al momento È la carta Che è stata Rilasciata da Futsheriff In anteprima Con le statistiche Ufficiali Quindi non sono prediction Ma sono Confermate E la prima cosa Che ci salta all'occhio È l'overall Perché è 92 Un overall che è identico A quello della versione IF Differiscono i due giocatori Semplicemente per un punto di passaggio 83 Non 82 Rispetto all'IF Per il Potm E un punto di fisico 77 Non 78 Per il Potm Quindi sono pressoché Due giocatori Fotocopia Delusi tutti quelli Che si aspettavano Questo Mbappé Uguale O quantomeno simile Al 93 Però questo potrebbe essere Da un lato Una cosa negativa Dall'altro Una cosa positiva Perché facendo sì Che sia uguale all'IF E che l'IF Costa un milione e mezzo Questo Mbappé Potm Io mi aspetto Un range di prezzo Che va dal milione Proprio al milione e mezzo E se non avete Una versione Di Mbappé in squadra O se l'avete scambiabile E potete monetizzarla E in più Con quei crediti Mettendo vicino Dei fodder Andare a sbloccare Questa versione Di Mbappé Potm Ma per cifre 3 400 Ma anche 500k E pensare di dire Ok Ho messo Mbappé in squadra Sti cavoli Ho uno degli attaccanti Più forti del gioco Non lo tolgo più Ragazzi il mio consiglio È quello di sbloccarlo Perché Un'occasione del genere Non ricapita Proprio tutti i giorni Di avere un Mbappé A portata di mano Da poter sbloccare Poi considerate Poi considerate che Non durerà poco Quindi pure se lo iniziate Poi spacchettate Poi trovate qualcosa Poi vi danno i premi Weekend League Rivals Eccetera Credo che lo riusciate A portare avanti E portare poi a casa Per delle cifre Non esagerate Quindi Capisco magari Il rammarico Il primo a essere Rammaricato Sono io Perché ho il base Non scambiabile Speravo che uscisse 93 In maniera tale Da poter riciclare Il mio E fare un doppio upgrade Però Non tutti i mali Vengono per nuocere E sinceramente Questa versione qua Rischia di essere Molto interessante Per tutti coloro Che appunto Hanno tante carte Da poter triturare In un SBC A disposizione E portarsi a casa Un Mbappé Ad un prezzo Veramente abbordabile Ragazzi per questo video È tutto A me non resta altro Che augurarvi una buona giornata Vi ricordo che In descrizione trovate Tutti i link In particolare La piattaforma Viola Dove sono live tutti i giorni A partire dalle 7 Fino alle 3 del pomeriggio Statevi bene E a presto Dal vostro Riberoski Ciao